Buongiorno e benvenuti alle scuole bilingue di Massa. Sono Chiara Tognoni e sono la direttrice di queste scuole. Qui ci troviamo di fronte all'entrata della scuola English Primary School dove i bambini alla mattina entrano e si recano nelle proprie classi. La nostra scuola ha il vantaggio competitivo di basarsi sul bilinguismo italiano-inglese pur seguendo il programma ministeriale italiano perché la scuola è riconosciuta come paritaria. Adesso abbiamo piacere di condurvi all'interno della nostra scuola. Buongiorno, mi chiamo Michela e sono l'insegnante di Italiano in Atomato. Questa è la classe prima elementare. La maggior parte di questi bambini proviene dalla nostra scuola materna. Però ci sono anche bambini che si sono integrati perfettamente e vengono da altre scuole materne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La English Primary School di Massa è l'unica scuola primaria della provincia di Massa Carrara che offre il vantaggio competitivo del bilinguismo italiano-inglese. I nostri punti di forza sono l'innovazione didattica, l'insegnamento della lingua inglese con insegnanti madrelingua e bilingui e il rilascio delle certificazioni Cambridge, il servizio di qualità e un'ambiente accogliente. Il nostro metodo dell'insegnamento è un metodo all'avanguardia basato sulla comunicazione e l'interazione tra docenti ed alunni. In ogni classe della English Primary School è presente una limma, una lavagna interativa multimediale a supporto di questo metodo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.